I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato 16 trafficanti di droga. A capo del gruppo criminale c'era Gennaro De Tommaso, conosciuto come Genni Lacarogna. Si tratta del capo ultra del Napoli, noto per la mediazione che scattò poco dopo la sparatoria a Tor di Quinto, costata la vita a un giovane tifoso partenopeo, Ciro Esposito, in occasione della partita tra Fiorentina e Napoli il 3 maggio del 2014, valevole per la finale di Coppa Italia. De Tommaso già era ai domiciliari per reati di droga, ora è scattato il carcere. Nel corso delle indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, i militari dell'arma hanno documentato collegamenti tra fornitori di droga olandesi e il gruppo criminale di Forcella, capeggiato da Genni Lacarogna. Il gruppo organizzava l'importazione e il trasporto in Italia su auto articolati d'ingenti quantitativi di marijuana e amnesia e gestiva i rapporti con i capi e i gestori di numerose piazze di spaccio sul territorio napoletano e nazionale. Cristallizzati in continuità con l'operazione che a gennaio portò a circa 100 arresti, stabili contatti tra acquirenti di marijuana dei De Tommaso ed esponenti dello spaccio al dettaglio del rione Traiano.